Bene, buon pomeriggio a tutti. Oggi, in questa ora, più o meno, che abbiamo, continuiamo a parlare, diciamo, forse per l'ultima, per una delle ultime volte, di CSS, perché poi a un certo punto passeremo a fare anche qualcos'altro in Python dopo il CSS, quindi completeremo, nel certo senso, con il CSS la parte grossa che riguarda il front-end, per poi spostarci al back-end, che genererà anche il front-end, ma non solo. E oggi iniziamo a parlare di quello che potrebbe essere CSS avanzato, o meglio, CSS magari un po' più moderno rispetto a quello che abbiamo visto lunedì e la settimana scorsa, e avete provato voi in laboratorio. Quindi, finora abbiamo visto le cose base di CSS, le cose che probabilmente esistevano già così come erano dieci anni fa. oggi andiamo a vedere qualcosa di un pochino più moderno, che in parte rimpiazza alcune delle cose che abbiamo fatto. Per esempio, non si usano più i float per il layout, ma si usano altri metodi. I float continuano ad essere utilizzati per spostare immagini a destra o a sinistra in uno schermo, per esempio, quello sì. E oggi appunto vedremo altri metodi di layout, soprattutto di layout più avanzati, rispetto a quello che abbiamo visto col float. E mercoledì nel laboratorio, ovviamente, proverete questi metodi più avanzati per gestire il layout della vostra applicazione che avete fatto. E insieme ai metodi più avanzati di layout, oggi parleremo anche un po', oggi o la prossima volta, parleremo un po' di layout che sono responsive, quindi che si adattano a diverse risoluzioni di schermo e a diversi dispositivi. E finiremo questa sette di slide diciamo parlando di librerie per il CSS, che saranno poi quelle che andremo a utilizzare nel resto del corso. Quindi oggi facciamo, finora stiamo facendo le cose a mano, poi a un certo punto ci appoggeremo su qualcosa che ci darà una serie di componenti, una serie di funzionalità già fatte, che utilizza sotto il cofano, diciamo, queste funzionalità, ma non dovete farle voi da zero. Dovete usarle, imparare ad usarle e costruirci sopra personalizzandole. Al giorno d'oggi, nella pratica, praticamente nessuno implementa il layout a mano da zero, come invece stiamo facendo noi. Però questi stessi concetti vengono utilizzati da eventuali librerie, framework CSS, sia popolari, sia costruiti ad hoc da eventuali aziende, e ovviamente per personalizzarli bisogna sapere come funzionano e agire con gli stessi attributi, le stesse proprietà che queste cose di base hanno. Perché anche loro, anche questi framework, queste librerie, utilizzano, come dicevo prima, sotto il cofano, comunque queste queste metodologie, questi layout. Allora, oggi vedremo principalmente due tipi di layout e c'è anche un esempio che potremmo fare insieme, che sono i grid e flex. Quindi, in un certo senso, per rimpiazzare quello che fa float. Allora, grid, come dice il nome, è un layout a griglia. Potrebbe ricordare una tabella, ma in realtà non è una tabella, è un layout a griglia. La cui idea è che lo schermo, o la pagina, può essere divisa in una griglia, di un certo numero di righe e di un certo numero di colonne, quindi con un certo numero di celle, e queste celle possono essere grosse, diciamo così, occupare una sola cella, il contenuto, il contenuto della pagina può occupare una sola cella, oppure essere allargato su più celle. In questo caso, questo sushi qui occupa due colonne in una sola riga. Stessa cosa, quest'altro, technically, qui, occupa due celle orizzontalmente, mentre gli altri, anche questo è qui, mentre gli altri occupa ognuno una singola cella. Quindi si divide la pagina in una griglia e si riempiono le celle di questa griglia in base al bisogno. Dove, notate una cosa, che questo, questo elemento qui, che è composto anche questo, che è composto da un titolo, da un'immagine, da una descrizione, e magari questa immagine è messa lì con un float, perché il testo è a capo, è intorno all'immagine, a differenza di questi altri, e tutto all'interno di una cella. Quindi al suo interno, questa cella, se vuole organizzare il titolo a destra, a sinistra, al centro, l'immagine a destra, a sinistra, al centro, dovrà utilizzare o di nuovo il float, l'orientamento, eccetera, oppure al suo interno avere un'alta griglia, una mini griglia, in questo caso all'interno della cella, per sistemarsi gli elementi come preferisce. Quindi, il grid, l'elemento grid, il componente grid CSS, appunto definisce una griglia, grosso a vostro piacere, dove ogni cella può essere riempita da qualche contenuto o anche rimanere vuota, non è obbligatorio riempire tutte le celle. Quindi, se per esempio noi volessimo mettere solo un qualcosa centrato in queste due celle, questa cella e quest'ultima cella potrebbero rimanere vuote, e non andare a inserire cose solo nella seconda e nella terza cella di questa riga. Questo è possibile da un grid senza grossi problemi. E ci sono tre modi per definire una griglia, dove quello più... ci sono metodi automatici, come questo natural grid, che dice fai una griglia, non importa quanto, grande, eccetera, e si dice solo voglio una griglia di una certa grandezza, e poi si lascia al CSS gestire le varie cose. Oppure il metodo più, diciamo così, classico, il metodo più manuale, è quello di definire una griglia in modalità esplicita, non attraverso queste due proprietà, che non esistono in realtà, è un errore, ma attraverso grid-template-columns e grid-template-row. Nella slide dopo, in due slide, c'è scritto giusto. Quindi si possono definire esplicitamente, andando a dire quante colonne voglio nella mia griglia e quante righe voglio nella mia griglia. E poi per ogni contenuto andare a dire in quale colonna e in quale riga questo contenuto andrà. Quindi, in un primo momento si dice questo, questa pagina, questo body, il main, l'article, quello che ci interessa a far trasformare in una griglia, avrà quattro righe, tre righe, quattro colonne. E poi per ogni elemento che vogliamo mettere in una cella andremo a dire questo elemento va messo nella cella che è alla riga 1 e alla colonna 1. Quindi andremo noi a decidere dove l'elemento tramite il CSS dove l'elemento andrà a essere inserito nella griglia che noi abbiamo creato. In questo modo, come dicevo prima, possiamo anche saltare delle celle, se vogliamo, perché ogni elemento saprà in quale cella andarsi a inserire. Non è necessario, ovviamente, seguire un ordine specifico per le griglie. Quindi, se noi volessimo creare un layout classico a due colonne simile a quello che abbiamo fatto finora, quindi abbiamo una parte laterale che può essere un menu, che può essere una navigazione, che è una side, abbiamo un header, un article e un footer per semplificare, all'interno di una section in questo caso. Noi potremmo rendere la section una griglia, quindi non in main, non in body, ma la section è una griglia, ma va bene qualunque elemento HTML, e andare a definire che l'elemento contenitore ha un display grid, quindi a differenza di prima che avevamo solo display block e display in line, qui abbiamo un nuovo tipo di display, che è il display grid, che è quello che ci permette di usare una griglia, e poi nella section, quindi nel contenitore principale, andare a dire quante colonne e quante righe vogliamo, attraverso queste proprietà, grid template columns, plurale, e grid template rows, anche questo plurale. E andiamo a definire quante colonne vogliamo, per esempio andando a definire la grandezza delle colonne, quindi non andiamo a dire voglio tre colonne, possiamo anche, è uno degli altri metodi, dire vogliamo tre colonne, non importa quanto grandi, ma possiamo anche specificare quanto devono essere grosse queste colonne, che è la cosa che poi tipicamente si fa, perché vogliamo avere un po' di controllo sulle colonne, quindi magari la colonna laterale, quella del menu, sarà più piccola delle altre colonne, e le righe, allo stesso modo, la riga che conterrà la later, magari è più piccolo della riga che conterrà il corpo principale della pagina. Quindi vogliamo avere questo livello di controllo e possiamo averlo. E sia per le righe che per le colonne, ci basta dare le dimensioni delle colonne e delle righe, in pixel, in rem, in em, in percentuale, con le unità di misura che conosciamo, e lui creerà una colonna o una riga per ogni dimensione che noi inseriamo. Con i grid è stato anche introdotto e si usa questa unità di misura, fr, che è un valore frazionario, si chiama anche flex value, anche se è in una griglia, che è una proprietà che si può applicare a questi due elementi. E questo ci dice quanto, qual è la frazione della pagina che vogliamo occupare. Quindi in questo caso diciamo, noi vogliamo occupare 150 pixel e poi tutto il resto, tranne quei 150 pixel. Se noi scrivessimo 1fr spazio 1fr, vorrebbe dire 50% 50%. Dividiamo in due frazioni la pagina, in due mezzi la pagina. Un mezzo e un mezzo. Se noi mettessimo tre, 1fr, 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 sarebbe un terzo, un terzo, un terzo. Quindi ci permette di dividere lo spazio in maniera, diciamo così, o proporzionata, se si usa solo quella misura, oppure andando a prendere lo spazio avanzante, se si usa tipo 150 pixel, e occupando quello in maniera proporzionata. Quindi di nuovo, in questo caso, 1fr occupa tutto lo spazio, tranne i 150 pixel iniziali. Se avessimo una terza colonna con un altro 1fr, questi due 1fr, si dividerebbero lo spazio avanzato in maniera proporzionata, metà a testa. Quindi tutto lo spazio in meno 150 pixel diviso 2. Stessa cosa per le righe. Stesso identico ragionamento per le righe, solo che invece di creare colonne, creano righe. A questo punto, il contenitore crea un elemento di tipo grid, e ogni elemento all'interno del contenitore, quindi in questo caso, l'header, la side, l'article e il footer, che in questo esempio hanno solo un testo, possono specificare, insieme alle altre proprietà CSS che vogliono, dove, in quale cella devono stare. Quindi per esempio, l'header, diciamo, attraverso la proprietà grid column, singolare, senza template, e grid row, singolare, senza template. In questo modo, diciamo che per esempio, l'header non occupa la prima cella, ma va a occupare la seconda colonna nella prima riga. e quindi questa cella semplicemente rimane vuota. Il menu occuperà invece la prima colonna, ma la seconda riga. Stessa cosa per article, che occuperà la seconda colonna e la seconda riga, e il footer, che occuperà la terza riga, ma la seconda colonna, di nuovo, in maniera analoga all'header. E se noi avessimo avuto qui una terza colonna, potevamo personalizzare anche lì, dove volevamo mettere questa terza colonna, solo nella prima riga, solo nella seconda, solo nella terza, su tutte e tre le righe anche, come abbiamo visto nell'esempio di prima, attraverso un'altra proprietà di grid. Ok? Poi, qui c'è un link che racconta come funziona grid, come si può anche espandere con altre proprietà tipo grideri, eccetera, ma queste sono le proprietà ovviamente di base per iniziare con una griglia, come per, come abbiamo detto, CSS ha più di 200 proprietà, 200 attributi, 200 proprietà, ecco, non è necessario ricordarsene tutte a memoria, tutte le 200, queste sono quelle essenziali, poi c'è la documentazione, per esempio MDN, c'è Visa Studio Code che aiuta a collato completamento, ma tutte le cose che sono per grid iniziano con grid meno qualcosa. Quindi una volta impostato il display grid, tutte le varie proprietà sono grid meno qualcosa e vi permettono di gestire la griglia nella sua interezza. E questo è il primo tipo di layout e poi vedremo un esempio, faremo un esempio. Il secondo tipo di layout che è nato dopo grid ed è molto più utilizzato di grid perché ovviamente grid funziona bene se dobbiamo mettere delle cose in una tabella. se già volessimo occupare una cella e mezza dovremmo o dividere una colonna ulteriormente e poi però fare andare questa cella su due righe, su due colonne e quindi è un po' rigida. Permette di fare praticamente tutto quello che vogliamo ma è un pochino rigida perché è una struttura giustamente a griglia. Allora un altro layout che esiste che supera alcuni problemi perché è molto più flessibile da questo punto di vista si chiama Flex in realtà il Flexbox che nasce come alternativa soprattutto ai float per il layout in parte anche alle griglie ma soprattutto ai float per gestire appunto i layout perché Flex dà completamente il controllo su qualunque elemento qualunque proprietà che vi vogliate immaginare per un box un contenitore un elemento quindi potete giocare sull'allineamento in orizzontale o in verticale sulla direzione quindi gli elementi tradizionalmente vengono messi dall'alto al basso voi potete decidere che vengono invece visualizzati da basso all'alto o da sinistra a destra o da destra a sinistra siete liberi di scegliere la direzione l'ordine rispetto a quello che appare nella pagina HTML e anche la grandezza un elemento un box per esempio può essere n volte più grande degli altri e quindi vi permette di creare strutture di questo tipo in cui c'è un box che è grosso tutto lo schermo due in questo caso poi ce ne sono alcuni che sono piccolini quindi sono un'unità e poi ce n'è un altro che è composto da otto unità singole o di più che questo grosso qui e vi permette di giocare flessibilmente con i layout appunto vi permette come vi dicevo di giocare sull'allineamento tutta destra tutta sinistra centrato giustificato nella pagina la direzione l'ordine per cui l'elemento centrale va a finire in fondo va a finire all'inizio senza modificare l'HTML e appunto anche le dimensioni per cui potete dire che il primo elemento è grosso due volte degli altri e allora lui si adatta oppure sono equamente distribuiti nello spazio a disposizione e quindi gli elementi occupano tutto lo spazio che hanno a disposizione in maniera simile a quello che farebbero con un FR nel caso della griglia dividono lo spazio in tre quindi molto più flessibile rispetto a grid e anche rispetto a float e flex usa due tipi di elementi due tipi di proprietà un po' come grid grid aveva un bisogno dell'elemento contenitore che diceva display grid e definiva la riga le colonne e poi i singoli elementi che facevano qualcosa stessa cosa con flex c'è un container che è il contenitore di tutti gli elementi flex e definisce come vengono posizionati centrati giustificati nella pagina orizzontalmente verticalmente la direzione l'ordine e poi ci sono gli elementi singoli che si chiamano flex item che sono tutti figli di un contenitore flex che quindi beneficiano o no del fatto di essere all'interno di un contenitore di tipo flex come si abilita un contenitore di tipo flex prima scriviamo display grid qui si scrive display flex e tutti i figli diventano di tipo flex diventano flex item e per esempio una proprietà che si applica a livello del contenitore è questo justify content che quindi definisce giustifica il contenuto orizzontalmente e ci sono varie opzioni per esempio si può dire justify context start quindi secondo la direzione stabilita che di default è quella da sinistra a destra quindi gli elementi vengono messi uno dopo l'altro da sinistra a destra center gli elementi vengono centrati orizzontalmente nella pagina cosa che abbiamo visto l'altra volta con i float è molto più complicato da ottenere o anche flex end gli elementi vengono tutti messi in fondo alla direzione della pagina quindi tutti a destra nella direzione normale ma anche space around e space between cioè tutti gli elementi vengono distanziati la stessa quantità non solo tra di loro ma anche dai margini oppure space between ogni elemento è distanziato dallo stessa quantità di spazio ma non dai margini quindi ci permette di fare diverse cose con una riga dicendo solo justify content e cosa vogliamo fare con questo contenuto vogliamo centrarlo giustificarlo nella pagina quanto spazio mettere e quant'altro solo definendolo a livello di contenitore e tutti i figli ereditano questa proprietà c'è anche la possibilità di mandare a capo degli elementi quindi sempre a livello del contenitore principale attraverso la proprietà flexvrap che di default è impostata novrap se non viene definita si viene impostata vrap quando la pagina finisce quando si arriva al bordo della pagina al bordo del contenitore quindi in questo caso quando si raggiunge i 900 pixel di larghezza gli elementi vanno a capo e vanno a capo automaticamente quindi se ce n'è abbastanza da fare due righe si faranno due righe se ce n'è abbastanza da fare cinque righe si faranno cinque righe e lo farà in maniera automatica non dovrete voi dire ok questo elemento deve stare alla riga cinque semplicemente si definisce la direzione si definisce l'ordine se si vuole e si dice quando finisce lo spazio vai a capo e quindi lui può fare come in questo caso ce ne sono cinque manda a capo gli altri due e se il content è giustificato al centro ovviamente anche la seconda riga sarà giustificata al centro in base agli elementi che ci sono e così via per la terza la quarta e la quinta riga allo stesso modo si può definire l'allineamento non solo orizzontale ma anche verticale con la proprietà align item che quindi permette di giustificare di fare la stessa cosa che fa il justify content ma invece di farlo orizzontalmente o meglio nella direzione principale che di default è quella orizzontale di farlo nella direzione nell'altra direzione che di default è quella verticale per cui questi tre elementi subscribe logo e i logini dei social sono centrati verticalmente all'interno del contenitore e in questo caso centrati sia orizzontalmente che verticalmente all'interno del contenitore con di nuovo due istruzioni niente di più che due istruzioni a livello del contenitore quindi senza andare a dire flex float right left margini zero auto eccetera si dice al contenitore come devono comportarsi i suoi figli e i suoi figli si comportano e ovviamente stessa cosa per la direzione c'è un flex direction che dice che la direzione è orizzontale raw la direzione di default è quella orizzontale oppure quella verticale se si vuole lavorare con le colonne e infine ci sono anche questi item flessibili come vi dicevo prima che di default ogni item occupa lo stesso spazio ma gli si può anche dire che devono occupare lo stesso spazio ugualmente quindi togliendo eventuale spazio vuoto tra gli item questo equal flex oppure si può dire che uno di questi elementi può occupare un certo numero di volte lo spazio degli altri due volte lo spazio degli altri tre volte lo spazio degli altri eccetera e gli altri si riducono di conseguenza quindi i box che contengono quegli altri elementi vengono ridotti di conseguenza quindi qui per esempio dice che in questo caso è un footer che è di tipo flex space between quindi equidistanziati nel footer si dà flex 1 a ogni item del footer a flex 1 quindi occupa un terzo un terzo un terzo della pagina se sono solo tre o un quarto un quarto un quarto se fossero quattro sono un'unità ma al footer tree che è solo l'ultimo gli si dà flex 2 in questo modo il primo occuperà uno spazio il secondo occuperà uno spazio e il terzo elemento occuperà il doppio dello spazio che hanno occupato gli altri elementi finché non si sta ovviamente nella grandezza nella larghezza della pagina gli elementi in flex si possono anche raggruppare ma non usando una proprietà particolare semplicemente raggruppando gli elementi dentro un div quindi i contenitori funzionano applicano la proprietà solo ai figli diretti non ai figli dei figli per cui se voi volete tenere insieme due elementi due elementi HTML o fare qualcosa di particolare con quei due elementi HTML il contenitore o si applica ai tre elementi separatamente oppure dovete racchiuderli in un div in un section in un qualcosa che contenga quei due elementi e a quel punto sarà quel div quel section quel qualcosa che subirà gli effetti del flex e poi all'interno di questo contenitore ritorna a funzionare la modalità normale non flex quindi se sono elementi di tipo display block saranno display block oppure voi potrete all'interno in questo contenitore riattivare flex quindi rimettere display flex e quindi i suoi figli i figli di questo div diciamo saranno a loro volta di tipo flex o saranno di tipo grid però a quel punto si ricomincia come se fosse il contenitore principale scegliete voi in base al vostro al vostro bisogno che cosa vi serve per dare il layout a quei contenitori qui ci sono un sommario delle proprietà alcune le abbiamo viste row reverse column reverse cambia l'ordinamento quindi se l'ordinamento è da destra a sinistra la direzione da destra a sinistra diventa sinistra a destra o viceversa order permette appunto di personalizzare l'ordine e eccetera gli altri display flex eccetera flex e qui ci sono un po' di link tra cui un tutorial la forma di gioco con le ranette se volete perderci dieci minuti che insegna come si usa flex le varie proprietà ok prima di passare all'esempio fatemi dire due parole su altri layout visto che qualcuno di voi le ha già scoperti le ha anche già usati senza magari sapere esattamente cosa cosa fossero e più che altri layout possiamo dire che sono proprietà avanzate della proprietà display quindi qualcuno di voi l'altra volta mi ha detto ah io per risolvere il problema se ricordate che cercavamo di l'altra volta cercavamo di mettere gli elementi nel ladder a destra a sinistra abbiamo provato col display in line poi abbiamo provato poi l'abbiamo fatto con i float qualcuno di voi mi ha detto io sono riuscito a farlo senza float col display in line ma non col display in line e basta col display in line trattino block che è un qualcosa che noi abbiamo detto esiste il display block il display in line adesso vi sto dicendo esiste il display flex e il display grid che cos'è il display in line block ecco flex grid table block block e in line sono chiamate inside keyword quindi parole chiave interne della proprietà display quindi finora tranne questo in line block che abbiamo fatto come esempio abbiamo sempre usato delle proprietà interne ovviamente display table è la proprietà display che automaticamente viene inserita a ogni tabella quando ho creato una tabella con l'elemento HTML table questa tabella ha come proprietà il display table quindi non è un block non è un in line quindi queste si chiamano interne sono quelle che abbiamo usato finora sono anche quelle che hanno a che fare con flex e grid e specificano il tipo di contesto di formattazione per cui i contenuti che utilizzano che sono all'interno di questo display interno vengono poi disposti sullo schermo quindi display block ha come contesto di formattazione quello che alla fine di un blocco si va a capo display in line ha come contesto di formattazione quello che invece sono ognuno in seguito all'altro e ogni proprietà width white non viene considerata viene ignorata da un display in line ecco perché l'altra volta con l'header non riuscivamo a metterli come volevamo perché anche impostando la width della width viene ignorata col display in line scusate ho detto una cosa sbagliata block in line sono outside keyword ok quindi flex green the table sono inside keyword block in line invece sono outside keyword per la proprietà noi li abbiamo sempre usati come se fossero anche in questo esempio come se fossero la stessa cosa in realtà quello che succede è che è che quando noi scriviamo display block è come se noi scrivessimo ma non lo scriviamo perché è il default display block flow dove flow è la inside keyword quindi display può prendere due proprietà outside due keyword outside ed inside se ne specifichiamo solo una delle due l'altra va al default quindi quando scriviamo display block display in line la outside è specificata e l'inside va a default quando noi scriviamo flex green the table la inside è specificata e l'outside va in default quindi quando noi scriviamo display block in realtà è come se scrivessimo display block che è l'outside keyword flow che è la inside keyword che è il comportamento standard del browser quello che abbiamo visto fino a lunedì essenzialmente quando usiamo solo la inside keyword come flex noi è come se scrivessimo display block flex quindi il flex e il grid e il table specializzano il block se non viene specificato diversamente questo perché appunto il block in line sono le outside keyword che definiscono il ruolo dell'elemento come vi stavo dicendo prima nel flusso di layout quindi nel flusso normale quindi block va a capo in line stanno sulla stessa riga mentre flex flow grid e table invece specializzano il contesto quindi flex ci permette di all'interno di elementi di tipo block di fare di metterli a fianco di tenerli giustificati orizzontalmente verticalmente selezionare la direzione specifica in maniera più dettagliata che cosa fanno ma sono sempre elementi di tipo block quindi hanno margine sono scatole e naturalmente andrebbero a capo se non ci fosse il flex che fa qualcosa in più e infatti appena perdiamo il padre diretto con flex o con grid noi ritorniamo a utilizzare il default che è block perché questa inner keyword questa inside keyword viene poi persa dopo il primo figlio ora questa si chiama sintassi a un valore perché c'è un valore solo e questa di qua si chiama sintassi a due valori perché ci sono due valori separati da uno spazio questa sintassi a due valori è supportata solo da browser recenti quindi per ognuna di queste sintassi a due valori esiste una sintassi corrispondente a un valore solo quindi se non vogliamo il default ma vogliamo per esempio un inline un block un inline flex se per esempio volessimo un inline flex potremmo avere dobbiamo avere e non vogliamo usare la sintassi a due valori possiamo usare la sua sintassi equivalente a singolo valore che sono sempre due parole separate da un trattino ora normalmente con flex grid table si usano sono state pensate per essere usate come block come tipi block quindi non c'è motivo per usare un inline per come funzionano i flex o i grid o le table questo è quello che vi ho detto il default è block o è flow in base a quello che compare ma c'è un'altra inside keyword oltre flex grid table eccetera che si chiama flow root quindi si chiama flow come quello normale per cui si usiamo block e inline senza specificare niente che è quella che chi ha sperimentato con l'inline meno block ha utilizzato inline meno block è la single value keyword di inline spazio flow root della proprietà due valori flow root che è una keyword che esiste da un po' non viene tantissimo utilizzata perché poi è nato flex e grid che si comporta come il flusso normale per i block e per l'inline ma con la differenza che definisce la root l'elemento su cui la formattazione il layout della pagina viene applicata nell'elemento in cui è definita quindi il flusso definisce l'elemento di formattazione principale nel tag html della pagina tipicamente questa flow root permette di ridefinire temporaneamente di definire un altro meglio un altro elemento root non nell'html ma nell'elemento in cui viene definito quindi in un certo senso è come se noi applicassimo il display inline direttamente sulla pagina sul tag html invece che sul tag che vogliamo fare questo ha come effetto collaterale che spostando il root nell'elemento dove vogliamo l'inline inizia ad accettare inizia a comportarsi bene inizia a comportarsi in maniera che bene per quello che vorremmo noi quindi inizia a comportarsi in maniera per esempio ad accettare una una grandezza un'altezza un'ampiezza per l'elemento e quindi il problema che avevamo l'altra volta sull'header che abbiamo risolto col float si poteva risolvere con l'inline block per esempio o con display inline flow root che è la versione a due valori quindi questi sono altri pezzi di proprietà che si possono utilizzare e si usano in maniera congiunta con block inline tipicamente se si scrive display flow root è come se si scrivesse display block flow root perché il default è sempre block col block non cambia un granché ma con l'inline ovviamente c'è una grande differenza di comportamento quindi giusto per fare un esempio questo è quello che capita se noi abbiamo una prima sezione che è solo float left e una seconda sezione che è invece un flow root poi sono identiche hanno solo entrambi un div con dentro un p un paragrafo allora vedete che come capitava a noi nel il box col floating perde lo sfondo del contenitore come capitava a noi con il ladder quando abbiamo messo il float abbiamo perso il background del ladder l'altra volta finché non abbiamo detto position absolute o position fixed con float root invece rimane inserito all'interno del contenitore perché è il contenitore che agisce da root in questo caso invece il contenitore si riferisce al tag html della pagina come root e quindi perde alcune informazioni di questo contenitore subito sopra di questo padre subito sopra e questo è senza l'inline quindi questo è il block flow root che già ci mostra una differenza ovviamente con l'inline avremmo la possibilità di avere un altro di questi subito a fianco in questo caso invece se ne avessimo un altro un altro elemento andrebbe a capo come ogni elemento di tipo block cambia solo dove in un certo senso è la radice a cui applica le varie cose quindi se voi ricordate questo che abbiamo cercato di fare l'altra volta si può ottenere lo stesso risultato simile a quello che abbiamo ottenuto l'altra volta giocando con i float con queste due righe invece di dire float left float right poi margine poi quello che abbiamo fatto e poi a position absolute perché se no perdevamo lo sfondo dicendo che entrambi il div che contiene i titoli e la mav che contiene questa serie di link sono entrambi in line block automaticamente sarebbero stati messi una fianco all'altro mantenendo correttamente lo sfondo dell'oggetto mentre noi prima se ricordate quando abbiamo provato a mettere l'inline su questi e l'inline su questi non ottenevamo questo risultato specifico perché di nuovo l'inline non prende una grandezza specifica e per funzionare avremmo dovuto mettere in line su tutti gli elementi anche su questi figli con il risultato che avremmo avuto blog e tutto su introduzione all'applicazione web e questi elenchi puntati tutto sulla stessa riga invece noi volevamo mantenere queste sue righe separate e mettere solo questo a fianco l'abbiamo poi fatto ripeto quel flot questo era un altro modo di farlo con questa si può fare con la grid ovviamente una riga due colonne si può fare con flex due elementi separati nello spazio centrati nello spazio con il primo con il doppio dello spazio dell'altro si può fare facilmente con flex ma si può anche fare con questo display in line block dopodiché ripeto questo in line questo float root è un po' meno usato rispetto a flex e grid perché flex e grid sono poi più flessibili soprattutto rispetto a flex perché poi flex è molto più flessibile su tante altre cose che questo invece non ci permette di fare centrarlo per esempio centrare un elemento al centro della pagina e quant'altro ok prima di andare avanti su questo vediamo i grid e i flex in pratica allora io ho costruito un un esempio che avete già online che possiamo aprire che è un esempio fatto ad hoc come layout di test non è tanto importante il contenuto ma ci serve giusto per capire dove sono gli elementi quindi abbiamo un h2 questo se guardate adesso apriamo anche css questo è fatto con quello che sappiamo che sapevamo l'una di sera non c'è niente non c'è grid non c'è float non c'è inline block non c'è niente di tutto ciò è fatto con il float quindi abbiamo un header di primo livello che è nella posizione di default senza niente in particolare poi abbiamo un h2 che è centrato e in effetti è centrato nella pagina e poi abbiamo altri tre elementi che sono posizionati con il float uno che è un paragrafo da tenere a sinistra col suo bordo giusto per vedere dove finisce una con immagine a caso e poi un paragrafo da tenere invece tutto a destra nella pagina allora se noi guardiamo l'html vediamo che c'è un main con dentro una section e un div e dentro la section c'è l'h2 centrato il l'h2 quindi questo qui e dentro il div invece ci sono gli altri tre elementi qui se guardiamo il css vedete che abbiamo centro e l'h2 centrato che quindi ha un display block e centrato margin zero auto e ha una grandezza del 30% e poi ha anche il bordo ma giusto perché ci serve il bordo per vedere dove siamo poi ha altri 3D che sono gli elementi da mettere a sinistra destra e al centro nella seconda parte diciamo sotto l'h2 che sono un float left quella sinistra con una larghezza del 30% perché vogliamo metterli disposti equamente nella pagina quindi 30% 30% 30% e al bordo va bene cioè quello centrale che anche lui ha il bordo ha ancora un float left e ha un'altra grandezza del 30% perché di nuovo lo spazio è quello e anche un margine per farlo sembrare davvero al centro perché se no lui lo mette al 30% allineato a sinistra visto che ha un float left quindi senza questo questo non è davvero centrato l'immagine è subito dopo l'altro float left quindi per farlo venire centrato dobbiamo aggiungergli noi un po' di margine e questo po' di margine calcolato in maniera empirica nel senso provando finché non si otteneva il risultato giusto è 4.8% non 4.9 non 5 non 4 esattamente 4.8 e poi fate la stessa cosa con l'altro float right 30% vabbè e il margine colorato questo è quello che sappiamo fare quindi se noi abbiamo un layout in cui vogliamo in cui vogliamo una prima riga diciamo così centrata un elemento a destra un elemento al centro un elemento a sinistra a capo questo è quello che dobbiamo fare finora possiamo fare finora dove in questo caso specifico questo section e questo div non sono strettamente necessari nel senso che tutto potrebbe funzionare anche senza questo div anche questo senza section perché tanto noi andiamo a modificare il float degli elementi singolarmente questo section questo div ci servono per il grid del flex e quindi per non modificare l'html lo lasciate anche qui ok? ora quello che proviamo a fare è cercare di ricostruire lo stesso layout prima con il grid e poi con il flex in modo da avere le tre varianti le tre versioni allora creiamo un altro file css e chiamiamolo grid e chiamiamolo grid togliamo tutto quello che sicuramente non ci serve perché non vogliamo farlo più con il float quindi tutti questi non ci servono i bordi sì ci servono ancora perché vogliamo vedere lo spazio che occupano le varie cose chiudiamo float e importiamo invece di float grid e vediamo il risultato ovviamente togliendo lo stile lasciano solo i bordi viene tutto messo nel flow normale come block quindi ognuno occupa tutto lo spazio che può e poi va capo ora facciamolo diventare una grid tenendo presente che noi abbiamo una section qui e un div qui dentro il main abbiamo detto che la prima cosa da fare per farlo diventare una grid è mettere display grid dove andiamo a mettere ad applicare display grid se lo applichiamo in tutto il body ognuno di questi sarà una cella quindi una cella avrà l'header e il main sarà un'unica grossa cella quindi non otteniamo il risultato che vogliamo non il risultato che vogliamo noi in altri casi può andare bene averlo in tutto il body dipende di cosa si ha nel file html allora se noi non avessimo section e div potremmo applicarlo al main dire il main è un'unica grande grid e andiamo a disporre come nell'esempio che c'è sulle slide ma noi abbiamo i section e il div in mezzo per cui se noi l'applicassimo al main possiamo anche farlo se noi lo applichiamo al main così vediamo cosa capita se noi facciamo diventare display grid e diciamo che ci sono anche tre colonne perché lo sappiamo già che ci sono tre colonne quindi grid template columns e mettiamole come prima 30% 30% 30% quindi un fr un fr un fr che separa lo spazio in tre parti uguali poi potremmo dire sono anche due righe uno è l'header e l'altro sono gli altri tre elementi quindi potremmo definire un grid template rows con due righe quindi potremmo dire un fr e un fr per fargli dividere lo spazio con mente non ci serve forse l'header basta più piccolo ma lasciamolo così per ora se noi salviamo e applichiamo questo vi ho già adecipato che non funziona perché ogni la section verrà in una cella e verrebbe in una cella e il div verrebbe in un'altra cella però di default cosa fa? mette il primo elemento nella prima cella nella prima colonna e il secondo elemento nella seconda colonna e soprattutto vi fa vedere adesso magari non si vede tanto ma se aprite l'inspector del browser l'inspector del browser vi mostra come è formata la griglia che avete definito adesso qui non si vede tanto ma ci sono queste righe tratteggiate che prima non c'erano purtroppo c'è anche il colore di evidenziazione però si vede che la griglia inizia sopra la prima cella è grossa quanto paragrafo immagine paragrafo e un po' di spazio c'è una terza cella a fianco di là vuota ma lo spazio è equamente diviso sia nelle celle nelle righe che nelle colonne però dato che lui trova due figli un div una section mette entrambe le cose nella prima e nella seconda cella ora noi probabilmente potremmo andare a dire che ogni singolo elemento e possiamo provare potremmo anche dire che ogni singolo elemento quindi questo era l'h1 potremmo dire che questo deve stare nella grid column 2 non nella prima ma nella seconda e nella grid row 1 in questo caso si conta da 1 non da 0 quindi l'header l'h2 deve stare in centro quindi sono tre colonne prima riga seconda cella seconda colonna questa sinistra deve stare nella prima colonna e nella seconda riga questo in centro questa metà deve stare nella seconda colonna sempre nella seconda riga e questo a destra deve stare nella terza colonna e nella seconda riga andiamo a disporli dove vogliamo dove vorremmo almeno quindi andiamo a dire ogni elemento all'interno della griglia lo disponiamo dove vogliamo metterlo quindi questo centro è l'id dell'h2 questa sx è l'id del paragrafo io sto a sinistra mx è l'immagine e dx è il paragrafo che sta a destra in cui semplicemente abbiamo detto dove devono stare però vedete che se noi aggiorniamo non cambia niente non cambia niente perché il grid si applica al primo figlio e il primo figlio non è l'immagine l'h2 e il paragrafo il primo figlio è la section e il div quindi se noi modificassimo momentaneamente l'html e togliessimo questi quindi lasciassimo solo gli elementi senza nessun contenitore vedremmo che in effetti vengono distribuiti nella griglia questo è prima cella seconda cella terza cella della prima riga e stessa cosa sotto poi dovremmo andare ancora a dire ok l'immagine deve stare centrata all'interno della cella e questa prima riga magari non deve occupare tutto lo spazio può occuparne un po' meno quindi invece di un fr potremmo mettere 10% o due rem qualcosa quindi questo ce lo dispone nella griglia poi possiamo personalizzarlo però il nostro problema è che noi abbiamo una section e un div e per qualche motivo non possiamo cancellarli quindi non funziona quindi quello che abbiamo fatto non funziona come lo facciamo funzionare? quindi questo tu dici invece di scrivere main scriviamo div ma non ci serve un altro div perché abbiamo già il main anzi peggiori no ma non importa se qua c'è scritto main o qua c'è scritto div perché non cambierebbe niente perché lui comunque si applicherebbe al primo figlio che trova che è section ed div qualunque cosa ci sia scritta qui main section body beh body non può esserci header article non importa cosa ci sia scritto lì ma se noi applichiamo la grid lì la prima cella sarà tutto il contenuto della section che è il primo figlio e la seconda cella sarà tutto il contenuto della div che è il secondo figlio diretto quindi non importa se sia un main un div o altro non possiamo metterlo lì sicuramente le istruzioni CSS ora dato che non possiamo metterle lì e che questo si applica solo al primo figlio dove le mettiamo? dove mettiamo display grid? nel div questo div qui sotto? fatemelo fare così tanto non ora se ne facciamo così cosa succede? meglio meglio no? perché almeno questi tre adesso sono disposti più o meno correttamente abbiamo creato anche un'altra riga qui sotto che non ci serve è vuota non ci vede però sì mettiamolo nel div la riga non ci serve più a questo punto e nel div c'è sinistra mezzo e destra e quindi non ci serve più la riga perché non c'è nessuna riga ok infatti adesso togliendo l'altra riga sparisce lo spazio però ci avanza un H2 centrato che non è centrato come lo centriamo? usando grid normalmente abbiamo una griglia che contiene che contiene solo questo qui dentro c'è la nostra griglia una griglia di una riga e tre colonne ma è solo lì la griglia non è da altre parti se volessimo avere una griglia anche o che includa la section cosa potremmo fare? abbiamo visto che applicarlo al padre di tutto non funziona quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto adesso ma invece di farlo nel div la facciamo nella section quindi essenzialmente diciamo che questo ha anche quest'altra proprietà si deve applicare anche la section e togliamo la riga perché solo non ha due colonne e in questo caso abbiamo due griglie da una riga sola con tre colonne in cui l'H2 della prima griglia è centrato perché è nella colonna centrale che separa lo spazio in maniera equivalente e gli altri due sono l'altra riga è un'altra griglia che ha solo una riga sola non avessimo avuto il div non avessimo avuto la section ovviamente non ci serveva avere una doppia griglia ci bastava avere una griglia sola che sarebbe stato meglio ma in questo caso l'avevamo non potevamo toccarle perché sì e quindi abbiamo dovuto fare questo trucchetto ma se potessimo togliere il div la section sarebbe più facile avevamo solo un'unica griglia con tutto dentro oppure potevamo usare altri potevamo usare margin zero auto per mettere al centro questo H2 centrato come si faceva con il flotto però volendo fare un esempio usando solo le grid questo è quello che dobbiamo fare con il div la section ora come centriamo questa immagine? perché è nella cella centrale ma non è centrata all'interno della cella centrale idee? stavolta non facciamo un'altra griglia ovviamente all'interno della cella ma dobbiamo avere un modo per centrare queste immagini all'interno della cella in cui si trova non ci serve per prova però sì con un margin non ci serve per prova perché la grid si applica al primo figlio e poi subito dopo il secondo figlio ritorna a essere display block o quello che è in questo caso l'immagine è un display block quindi ritorna nel display normale al di fuori dal block al di fuori dal grid eccetera al di fuori dal flex dal grid eccetera quindi quello che ci basta dire è un margin zero auto che è il modo per centrare le cose con display block e all'interno della cella che era già centrata diventa centrato quindi riusciamo a fare la differenza che con flex senza dover andare a giocare con i margini perché qui siamo in un contesto block e non float e quindi riusciamo a centrarlo senza problemi con margin zero auto ok? dubbi? domande? ok ora rifacciamo lo stesso giochino col flex invece che col grid abbiamo capito come si fa quindi dobbiamo togliere per forza display grid perché questa non è più una grid column e lasciamo solo i bordi per vedere sempre gli spazi quindi torniamo nel sì e poi colleghiamoci con flex importiamo flex e non grid quindi ritorniamo nella versione brutta ora come prima dove mettiamo il display flex? no perché avremo lo stesso identico problema che avevamo con la grid perché si applica solo al primo figlio quindi metterebbe in un flex item tutta la section e in un altro flex item tutta il div e quindi avremo solo due colonne diciamo quindi avremo questo h2 qui e poi qui a fianco paragrafo fatta nella sinistra immagine paragrafo fatta nella destra in maniera simile a quello che capitava prima con la grid quindi no e no perché lui continua ad applicarsi poi se vuoi lo proviamo non adesso oppure puoi provarlo tu per curiosità perché lui continua ad applicarsi solo al figlio quindi se tu fai un flex generale su main e poi fai un div dentro che dice flex 1 lui occupa uno spazio ma all'interno del flex principale e quindi continua ad avere la section da un lato e il div con tutto quello che ha dentro dall'altro non prendi tre elementi lì scompatta perché arriva solo dal primo figlio non va al secondo figlio e noi invece abbiamo questo limite quindi come facciamo la risposta è facile davvero è banale la risposta perché l'abbiamo fatto per grid come facciamo? sempre 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 la div e sempre la section anche in questo caso dobbiamo avere due flex uno che si applica perché si applicano solo al primo figlio gli elementi no? e quindi qual è noi vogliamo ordinare diciamo questi tre noi vogliamo mettere questi tre ben distribuiti nella pagina qual è il padre comune di questi tre? il div dove dobbiamo applicarlo? al div perché è il padre diretto di questi e se vogliamo fare la stessa cosa sulla section dobbiamo applicarli per l'h2 dobbiamo applicarlo alla section di nuovo in questo caso ecco in questo caso la differenza della grid se noi non avessimo la section del div succederebbe che avremmo h2 centrato seguito da paragrafo a tenere a sinistra che è in un altro quarto della pagina seguita dall'immagine seguito da paragrafo a tenere a destra quindi avremmo tutti e quattro sulla stessa riga che non è quello che vogliamo quindi in questo caso ci è utile avere una section e un div separati quindi come facciamo? l'abbiamo già più o meno fatto prima display flex sappiamo che se vogliamo ordinare le cose metterle centrate nella pagina possiamo dire justify content center e vediamo cosa è capitato già è tutto centrato tutto un po' un po' troppo appiccicato però però è centrato non occupa bene gli spazi e potremmo dire potremmo fare due cose o diciamo flex 1 a entrambi a tutti e tre quindi diciamo che tutti occupano tutto lo spazio che possono proporzionalmente e in questo caso l'immagine diventa più grossa di quella che avevamo prima perché lei cerca di occupare tutto lo spazio che ha a disposizione quindi tutta la vecchia cella quindi diventa più grande delle dimensioni originarie quindi dovremmo applicargli un width se volessimo più piccola ma è comunque centrata perfettamente centrata oppure invece di center potremmo usare proviamo con space between e a questo punto flex 1 proviamo a toglierlo quasi quasi perché questi vanno effettivamente tutta a sinistra tutta a destra e questo sta effettivamente a centro solo che per come abbiamo scritto il CSS quella stessa scelta si applica anche all'H2 centrato che a quel punto non è più centrato potremmo separare o separare main section da div dove uno è center e l'altro è space between oppure mantenere flex 1 in tutti e mantenere centrato in base a quello che si vuole ottenere però se noi volessimo mettere se non avessimo questo H2 centrato e volessimo mettere le cose o a sinistro o a destra o al centro per esempio con space between o space within potremmo quindi aggiungendo dello spazio prima e dopo l'ultimo elemento potremmo allargare potremmo comunque ottenere un risultato simile a quello che vogliamo ovviamente questi sono piccoli questi due P sono piccoli perché occupano tutto lo spazio che gli serve quindi è uguale è simile solo che aggiunge lo spazio prima e dopo in più questi sono sempre grandi così perché sono paragrafi quindi occupano lo spazio che devono occupare in base al testo che c'è dentro con space evenly ho visto che c'è anche qui è simile a space around solo che è proporzionato lo stesso spazio che c'è qui e anche che c'è qui però non è ancora quello che avevamo prima con lo grid che occupava comunque tutta la cella ecco qui non abbiamo tutta la cella occupata per avere tutta la cella occupata e mantenere l'header centrato dobbiamo usare center e flex su non qui è flex 1 per esempio allora in questo caso occupano tutto lo spazio in maniera simile come facevano le celle prima o il float prima e questo H2 è centrato perfettamente e in questo caso l'immagine occupa tutto lo spazio non dobbiamo neanche centrarla all'interno della cella con margin 0 perché lo fa già da solo il flex ok dubbi questi sono altri due meccanismi il grid e il flex per fare layout noi ci siamo messi in un caso specifico in cui abbiamo un main con dentro una section con dentro un div e con dentro gli elementi per cui abbiamo dovuto complicarci la vita in certi casi e semplificarcela in altri però in base a quello che poi serve che vi serve fare ovviamente le cose possono cambiare la cosa però importante da ricordarvi è che sia flex che grid si applicano ai primi figli diretti quindi figli diretti e quindi se noi l'avessimo ripeto applicato al main non avremmo ottenuto il risultato che volevamo perché i figli di main sono section e div e questo vale sia per la grid che per il flex perché sono appunto elementi per darci una struttura nell'intera pagina io questi esempi comunque ve li carico così voi li avete ok in questi ultimi 5 minuti fatemi dire due cose due sulle auto responsive che è una cosa che siete introdotte in CSS3 per non solo far scalare come abbiamo adesso adesso se noi ridimensioniamo questa finestra diventa più piccola in proporzione però cerca di mantenere vedete sempre le cose esattamente nel layout che abbiamo messo noi quindi una destra una sinistra non importa che questo testo diventi piccolo illeggibile tutto schiacciato lui cerca di mantenerlo proporzionato i layout responsive sono proprietà CSS che non solo ci ci permettono di scalare come stiamo facendo adesso perché stiamo usando flex stiamo usando percentuali eccetera ma ci permettono di definire che cosa vogliamo vedere con quali grandezze e quando quindi noi potremmo dire sul desktop voglio vedere testo a destra testo a sinistra e immagine al centro ma su uno smartphone il testo a sinistra va sopra l'immagine va sotto e il testo a destra sparisce possiamo controllare in un certo senso la logica della visualizzazione della pagina usando solo il CSS e come lo si fa? lo si fa tramite delle regole che vengono applicate in maniera condizionata che si chiamano media query e si scrivono in questo modo c'è un e sono CSS c'è un chiocciola media poi c'è in quali circostanze quelle regole CSS vanno applicate e poi ci sono le regole CSS che vanno applicate quindi questa regola in cui il P diventa rosso va applicata solo quando la dimensione minima della pagina è 900 pixel se la dimensione è 800 non viene applicata e uno può fare anche la stessa cosa questa regola viene applicata solo quando la dimensione massima dello schermo è 500 pixel altrimenti valgono le regole generali che vengono definite come abbiamo definito finora quindi si definiscono in genere delle regole come stiamo definendo noi e in più si aggiungono delle regole specifiche per definire cosa succede quando si passa da un computer a uno smartphone per esempio o cosa succede con un tablet o cosa succede quando è orizzontale o verticale lo smartphone e il tablet e tutto questo si fa con queste media query che sono composte da due parti oltre che della regola CSS il tipo e la feature che deve essere fatta il tipo di default è all come nell'esempio di prima quel min min width 900 si applica a tutti i tipi di media però in realtà se ne sono due definiti uno è screen che si applica a computer tablet eccetera tutti quelli che hanno uno schermo e c'è anche un altro tipo che è print che si applica alla stampante quindi se voi voleste far stampare una pagina HTML in maniera diversa da quella che vedete magari senza colori magari con certi elementi nascosti eccetera si può fare attraverso una media query a non dire queste regole CSS si applicano solo se sono su una stampante altrimenti si applicano quelle normale quindi se vogliono stampare qualcosa e poi ci sono le altre questo min width 900 che sono le feature del media che possono essere la dimensione tipicamente la dimensione minimo massima entro quale una regola si applica l'altezza a volte ma anche l'orientamento in landscape o portrait soprattutto per smartphone e tablet e anche il rapporto di dimensione dello schermo in 4 terzi in 16 noni uno volendo può anche fare queste modifiche tipicamente si usa l'orientamento e la larghezza per discriminare il passaggio da uno schermo a un altro per esempio da tablet a smartphone da desktop a smartphone queste query si possono anche combilare tra di loro con gli operatori booleani per la maggior parte delle volte quindi uno può dire quando ho una grandezza minima di 30 m e l'orientamento e l'landscape applica queste regole fai diventare il testo rosso nascondi questo elemento eccetera oppure quando l'altezza minima è 680 pixel o virgola o siamo su uno schermo e l'orientamento è portrait allora applica queste regole quindi la virgola sta per or l'end e la virgola sta per or e poi c'è anche il not che si applica non all'istituzione che segue ma da quel punto in poi quindi quando il media quando la query si deve applicare quando non siamo su uno schermo colorato e non siamo oppure non siamo su una stampante a colori quindi il not si applica a tutto come se ci fosse una parentesi che contiene screen and color e una parentesi che contiene print and color quindi con diciamo una logica simile booleana con un operatore booleano che è l'end con o and or e not che però si applica tutta la query e una cosa nuova che si è introdotta da poco è la possibilità invece di definire una cosa che capitava frequentemente per definire l'aspetto su un tablet era dire ok un desktop è tutto quello che è più grosso di x pixel uno smartphone è tutto quello che è più piccolo di x pixel e quello che è in mezzo è un tablet allora si scriveva min width qualcosa e max width qualcos'altro per indicare il range che rappresentava il tablet hanno introdotto recentemente un modo diverso più facile in un certo senso di scriverlo in modo di scrivere come fosse una come fosse un linguaggio di programmazione in cui uno scrive width che è maggiore o uguale di 30 e contemporaneamente minore o uguale di 50 e questi si possono utilizzare anche senza land ovviamente si può usare anche width minore di 30 quindi hanno aggiunto minore maggiore maggiore uguale eccetera per specificare in questo modo la grandezza l'altezza e la larghezza quindi se essendo qualcosa di nuovo se ricordate la prima lezione è un qualcosa che bisogna verificare la compatibilità per cui noi sappiamo che Chrome dalla versione 104 lo supporta Edge dalla versione 104 lo supporta Safari sul desktop non lo supporta tuttora questa sintassi quindi se uno ha un CSS con questa sintassi e la persona che usa il vostro sito la vostra applicazione usa Safari non funziona quella regola verrebbe ignorata perché non saprebbe come interpretarla il browser Firefox la supporta dalla versione 63 e opera dalla versione 91 e Edge la trance anche un punto esclamativo bisogna verificare cosa sia e poi c'è tutto il mondo mobile che qui in questo immagine non è riportato ma sul sito che ne uso si può anche vedere quindi per queste cose più nuove bisogna sempre verificare se funzionano oppure no nei browser che volete e quali sono i layout tipici in questo responsive beh tipicamente in un desktop avete l'header magari 1-2 colonne e poi footer nel tablet magari volete spostare il contenuto prima e questo si può fare con le media query e mantenere le altre feature a mo' di footer e nel mobile invece poteste voler avere tutto uno sotto l'altro quindi niente a fianco all'altro e tutto questo si può fare utilizzando le media query quindi se questo è fatto con un flex questo potrebbe per esempio perdere il flex perché è tutto block based è tutto uno a fianco all'altro a capo all'altro e così via quindi questo permette di farlo attraverso appunto le media query per non solo ristringere come abbiamo fatto noi in percentuale lo spazio ma anche per ridisporre gli elementi in base al bisogno ok allora lunedì faremo un piccolo esempio sul responsive applicato a questo esempio che abbiamo e poi faremo un esercizio in cui prendere la nostra applicazione che abbiamo fatto l'altra volta il blog e dargli il layout col flex e responsive decidendo insieme cosa fare quindi differentemente da questo esempio molto molto specifico che abbiamo fatto oggi se avete domande sono ancora qui per diciamo 5-10 minuti nel frattempo che spengo altrimenti buon fine settimana e ci vediamo lunedì